Il libro di cui vorrei parlare è un libro che può aiutarci a comprendere il valore immenso della cultura soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando. Un libro che può aiutarci soprattutto a comprendere quanto la letteratura e la filosofia possano guidarci a riflettere sul senso della nostra esistenza e sui valori che definiscono la nostra appartenenza al mondo naturale. Si tratta del libro a mio giudizio più interessante e intelligente scritto su Goethe negli ultimi decenni. Si intitola Ricordati di vivere, Goethe e la tradizione degli esercizi spirituali. È stato pubblicato in Francia nel 2008 e tradotto in italiano già nell'anno successivo. Il suo autore è Pierre Hadot, uno storico francese della filosofia antica che ha insegnato tra l'altro al Collège de France. In estrema sintesi il filo conduttore del libro è quello del gioioso consenso all'esistenza nel mondo, la gioia spontanea e immediata di vivere, un tema caro a Goethe che verrà riproposto nella seconda metà dell'Ottocento con accenti in parte analoghi anche da Friedrich Nietzsche. Come recita il titolo, il libro è dedicato alla pratica degli esercizi spirituali nei testi di Goethe. Va subito sgombrato il campo da possibili equivoci. Si tratta di esercizi spirituali che non hanno nessuna connotazione religiosa. Alle loro spalle c'è invece una lunga tradizione della filosofia occidentale a partire dall'antichità. Si tratta, come dice Hadot, di atti dell'intelletto, dell'immaginazione o della volontà mediante i quali l'individuo si sforza di trasformare il suo modo di vedere il mondo al fine di trasformare se stesso in un processo di autoformazione, di individuazione, di bildung per usare un termine tedesco. Il primo di questi esercizi è quello della concentrazione sull'istante presente, fare di tutto per vivere con intensità ogni attimo dell'esistenza, senza lasciarsi distrarre dal peso del passato o dal miraggio del futuro. Dice Goethe, la presenza è l'unica dea che adoro. Il secondo è quello dello sguardo dall'alto, impegnarsi a prendere cioè le distanze dalle cose e dagli eventi, cercando di inquadrarli in una prospettiva d'insieme che consenta all'osservatore di separarsi dal proprio punto di vista particolare e sempre parziale. Il terzo si impernia sulla categoria della speranza e a questo proposito Ado analizza un componimento del tardo Goethe intitolato Uo Voote, parole primordiali, in cui Goethe assegna al principio della speranza una funzione centrale nel destino umano. La speranza come segnale di vita, di progettualità in grado di legare l'istante all'eternità dell'universo, come possibilità di sfuggire alle leggi ferre della necessità naturale. La meraviglia di fronte all'esistenza, per quanto questa possa riservare aspetti terribili e dolorosi, Porta Goethe ci dice Ado a dire di sì alla vita, per cui al memento mori di cristiani neoplatonici e romantici egli contrappone il memento vivere, ricordati di vivere, la massima che a partire dal viaggio in Italia caratterizza molte delle opere della maturità del grande poeta tedesco.